La quinta giornata di campionato vede sfidarsi anche l'Udinese e Roma e andiamo alla scoperta dei loro ultimi precedenti. L'Udinese è reduce da due vittorie consecutive, a Monza è in casa con la Fiorentina. Il goleador del momento è Beto, in entrambe le vittorie è riuscito ad andare in gol. Grande entusiasmo in casa giallorossa per il primato in classifica. Insieme a uno splendido di Balan dell'ultima gara, la Roma può vantare una difesa che in quattro giornate ha subito un solo gol, la punizione di Blaovic. 48 il totale delle gare, 15 vittorie dell'Udinese, 12 pareggi, 21 vittorie giallorosse. L'ultima vittoria dei bianconeri risale alla stagione 2018-2019. 1-0 in rete De Paul. Quella partita segna il debutto di Nicola sulla panchina dell'Udinese con un successo importante. L'ultima X è della scorsa stagione. 1-1 in rete Molina e Pellegrini. Ma Kengo sfiora il 2-0 con un tiro che colpisce prima la traversa e poi il palo. L'ultima vittoria della Roma è della stagione 2020-2021. 0-1 in rete Pedro. E pensate che a regalare l'ultimo successo giallorosso al Friuli è stato un giocatore che oggi gioca nella Lazio. Memorabile la sfida del 2019-2020. Un netto e perentorio 0-4 in rete Zaniolo, Smalling, Klaibert e Kolarov su rigore. Questo poker romanista determinò l'esonero di Igor Tudor dalla panchina dell'Udinese e diede il via alla carriera d'allenatore del suo vice Luca Gotti. Rimani sempre aggiornato con noi attraverso la nostra app e iscriviti al canale YouTube.